Ho conosciuto Tony dal 69, quindi fate un po' di conti quanti anni sono passati da quell'autunno del 69. L'ho conosciuto attraverso ovviamente delle relazioni, c'è qua Lauso Zagato, appunto che allora io ero studente, insomma 17enne, nascevo a potere operaio, io ero interessato, ho letto alcune cose, poi l'idea penso che si tratta di cercare di rendere comprensibile quella a partire dalle grandi intuizioni anche teoriche di Tony. Cioè poi per ragazzi, anche come eravamo anche noi, nel 69-70, a capire cosa voleva dire il rifiuto del lavoro. Cioè una delle categorie, uno dice ma la gente non ha voglia di lavorare, non era questo evidentemente il concetto. Come si riusciva poi nel rapporto con questa realtà che da qui era nata, poi anche il potere operaio, diciamo nasce in parte a Padova, in parte a Este, in questa sperimentazione, questa fabbrica metalmeccanica che era l'Utita, una fabbrica più grossa di Padova, nel rapporto con gli studenti che allora si approcciavano a una scuola che era cambiata, era una scolarizzazione di massa, c'era una necessità da parte del capitale di innalzare il livello di scolarizzazione media e quindi tutto quello che voleva dire anche la proletarizzazione della figura dello studente nelle scuole di allora, scuole di studi professionali, tecnici, eccetera, eccetera. E questo vuol dire andare, perché poi a 16-18 anni abbiamo capito immediatamente che la strada non era quella del PC perché il PC allora faceva un ragionamento che era già superato nella realtà materiale delle cose, cioè l'operaio professionale, sì certo era sparito l'operaio professionale, ma già in queste fabbriche metalmeccaniche dove arrivavano a lavorare degli altri giovani come noi, qualcuno di noi studiava, altri erano entrati dopo aver fatto scuole professionali nelle fabbriche metalmeccaniche o in altre fabbriche. E là capire appunto che c'era l'estraneità che noi vivevamo nella scuola, come studenti che non ce ne fregavano un cazzo di diventare ragionieri o geometri o quello che era, e il fatto che nella fabbrica stessi giovani della nostra età che si rendevano conto che il rapporto di sfruttamento che c'era, che bisognava attaccare, bisognava lottare, bisognava cambiare quello stato di cose che vivevano in una visione che era appunto allora di, non semplicemente di riformare, ma era una visione di tipo rivoluzionario, bisognava stravolgere, bisognava abbattere il sistema capitalistico, perché non c'era, perché contemporaneamente il capitale poi c'erano state stragi di Piazza Fontana, c'erano i fascisti, era chiaro questo rapporto antagonistico che si dava con lo Stato. Ecco io penso che per noi i primi numeri di potere operaio, e poi ricordiamo è tutto frutto di anni, Tony nel 1933, aveva iniziato credo dal 1963, con l'esperienza poi al comitato operario del petrochimico di Marghera, con i guadagni rossi, con il classe operaio, c'è tutto un lavoro a monte del 69 che è stato fondamentale per capire in termini di inchiesta qual era stato il cambiamento, la trasformazione della composizione di classe. Noi raccogliamo il frutto di questo lavoro e cominciamo a costruire organizzazioni operai, studentesche in questo rapporto che non era di alleanza, era un rapporto organico, di costruzione di nuova organizzazione che faceva i conti con una società completamente cambiata. Questo è stato quindi per me il primo approccio di traduzione in termini concreti di una illuminazione teorica, di una ricerca, di inchieste che sono state fatte, che poi appunto se poi non trovano applicazioni concrete, è chiaro rimangono sulla carta. Invece, e questa secondo me è appunto una continuità che si è data nella storia, nel pensiero e nella pratica di Tony, perché poi, dico, abbiamo un'altra anticipazione, intuizione formidabile che ho avuto, dopo io non l'ho capito bene, vuol dire nel 73, c'è Rosolina, noi eravamo in potere operaio, eravamo convinti ovviamente del percorso che bisognava costruire, dal punto di vista dell'organizzazione. Nel 73, Rosolina, si determina una spaccatura, da una parte le assemblee autonome, con Tony, dall'altra parte, alcuni di noi qua di Padovani, che non capiamo cosa voleva dire, cioè non si capiva bene qual è stato. In realtà, le intuizioni che c'erano dietro a quella spaccatura, erano intuizioni, sono capite dopo, cioè nel senso che era anticipato la fine dei gruppi. I gruppi durano altri due anni, l'autocontinua si scioglie nel 75, 76, penso, e anche l'avanguardia per la Sparice, e là, da là nasce l'idea dell'autonomia operaia, che non era più legata alla trasformazione che si è data dal 73 in avanti, quindi un'autonomia operaia concepita non tanto come una forma organizzativa, ma come un insieme di realtà, di collettivi, di studenti, di operai, di realtà di quartiere, perché appunto c'era questa dinamica per cui, vuol dire, il capitale sussumeva interamente tutta la società, quindi c'era la necessità di concepire nuove forme organizzative. E da questo punto di vista penso che Tony ha assolutamente anticipato quello che è stato poi il movimento, il passaggio dall'operaio massa all'operaio sociale, il 77, e tutto quello che c'è stato. Poi, vabbè, c'è stato il 7 aprile, anni 80, anni di grandi repressioni, eccetera, i processi, l'infamità qua del PC, di quello che hanno fatto, tra l'altro, purtroppo, il 7 aprile nasce da questa fabbrica luttita di Est, perché Antonio Ramito è stato lui l'infame che ha costruito, ha dato, diciamo, il via al teorema calogero, però, vabbè, questo ci fa capire come anche, che non bisogna mai, come dire, creare, vuol dire, rispetto al rapporto con la realtà dei singoli individui, poi è chiaro che la miseria umana viene fuori anche in queste situazioni, perché è ricattato dal PC, eccetera, questa è stata la storia che ha portato poi anche al 7 aprile. Ma, voglio dire, andando per grandi linee, credo che poi tutto quanto quello che è venuto anche dopo, insomma, penso che alla fine, no, di questo, della repressione, della grande repressione degli anni 80, penso che poi altre anticipazioni sono state fondamentali, la questione del potere costituente, la moltitudine, il comune, penso che sono tutte cose che poi, come si riusciva a tradurre, e poi abbiamo visto cosa c'è stato, vuol dire, Genova ha rappresentato sicuramente una dimensione dove la moltitudine si è rappresentata, quindi perché è stato frutto di un cambiamento fondamentale dal punto di vista societario. Poi, io voglio dire un altro anche degli aspetti così personali su Tony, che però per me hanno avuto anche un valore molto anche personalmente importante, cioè Tony io dopo l'ho rivisto ogni tanto, magari anche a Parigi, oppure quando è venuto anche a Padova, e il dato che mi ha sempre fatto molto piacere è che con Tony, che passano dieci anni, vent'anni, lui viveva a Parigi, parlava francese, tedesco, inglese, non so quante lingue parlava, e però quando parlava con qualcuno di noi veneto, parlavamo in veneto, in dialetto, e questa è una roba, per me, formidabile, cioè la radice, no? Cioè il fatto di stare, di essere, di tornare, no? E non aveva una cadenza, non è che aveva una cadenza francese o di altro tipo, la cadenza era padovana, e questo per me è una roba assolutamente importante, molto più di tanti altri aspetti, no? Sulla vita di Tony. E il piacere, ci siamo visti 4-5 anni fa, quando c'era in Place de la République, che avevano occupato là, eccetera, ci siamo messi là a parlare, e appunto voleva, in dialetto ovviamente, ed era, e questo per riprendere come diceva Giudice prima, no? La sua curiosità. Cioè, noi, se qualcuno lo sa, insomma, noi abbiamo aperto sempre con un ragionamento di partire dalla composizione di classe, come ADL, insomma, e siamo presenti ormai da anni, nella nuova composizione di classe, quindi la logistica, tutto il mondo del precariato, del caporalato, la trasformazione del mondo del lavoro, dove convive l'intelligenza artificiale, convive con il caporalato, quelle forme più schifose di schiavitù. E questo, per me, almeno per quanto ci riguarda, questa voglia di andare in profondità, di non fermarsi alla superficie, ma andare a capire qual è la composizione di classe, penso sia l'elemento fondamentale. Lettoni, appunto, là a Parigi, voleva sapere, voleva capire come è organizzata la logistica, qual è il rapporto tra la società committente, gli appalti, eccetera, eccetera. E questo conferma quello che è sempre stato detto, quindi la sua enorme capacità e volontà, voglia di sapere e di conoscere. Mi avvio verso la fine, insomma, intervento, per dire oggi sicuramente viviamo tutti una situazione, penso che sia drammatica, le guerre, l'impossibilità, l'incapacità di intravedere qualcosa di un mondo, dove appunto ci sia un futuro, una prospettiva, qualcosa che non sia quella delle guerre. Viviamo una situazione dove non c'è la soluzione, non esiste l'idea che qualcuno in una forma partito possa ricomporre, no, è una roba folle, assurda, che si possa pensare ancora teoricamente una roba del genere. esistono tante forme perché c'è il problema sul lavoro, il precariato, c'è la dimissione del reddito, c'è la questione dei battagli sui diritti sociali, la casa, c'è la questione di genere, c'è la questione dell'immigrazione, ci sono tutti questi aspetti, no, che sono elementi oggi fondamentali di lotta, per riuscire a fare in modo di cambiare, c'è la questione di come ci si organizza. questo esempio che abbiamo qua, così come tanti altri esempi di centri sociali, sono un esempio di come si costruisce il comune, di come oggi la forma organizzativa non può prescindere da una capacità anche di avere i luoghi dove costruisci le battaglie future. Questo penso sia un altro elemento fondamentale e io penso che sicuramente da questo punto di vista ci mancherà il pensiero di Tony, avrebbe potuto sicuramente continuare a dare ancora un grosso contributo nella possibilità di intravedere qualcosa di nuovo, qualcosa che ci possa dare delle prospettive partendo da elaborazioni che lui era là sempre a studiare, a leggere, a scrivere, eccetera e siamo sempre stati in grado di cogliere appunto gli spunti che lui dava e penso appunto che questo ci mancherà ancora molto ma qualcuno sicuramente raccoglierà la penna che lui ha lasciato purtroppo recentemente. grazie. grazie a tutti. grazie a tutti.